C'è trepidante attesa per la presentazione della lista Castellabate nel cuore con Luisa Maiuri candidato a sindaco. Maiuri è la sindaca uscente che ha governato Castellabate nell'ultimo anno dopo essere subentrata a Costabile Spinelli che lasciò il comando per la candidatura alle regionali del 2020. La sindaca ha dimostrato di essere una brava amministratrice affrontando con coraggio e una situazione non facile dovuta all'emergenza pandemica. Da sempre una donna forte, determinata e carismatica, stasera 17 settembre alle ore 20.30 in Piazza Caduti del Mare a Santa Maria di Castellabate presenterà la sua squadra, composta da Caterina Acquaviva, Francesco Ambrosano, Raffaele Ciccarelli, Ida Conte, Marco Di Biasi, Costabile Di Matteo, Antonio Ianni, Chiara Ianni, Salvatore Marinelli, Antonia Passaro, Costabile Nicoletti, Costabile Chiariello. Non mancheranno le risposte al candidato a sindaco Marco Rizzo che l'accusa sulla scelta di affidare il servizio idrico alla Consac, alla mancata approvazione del PUC e alle tasse troppo alte. Il candidato del PD le nega persino l'attribuzione del merito di aver fatto realizzare il film Benvenuti al Sud a Castellabate dichiarando di essere stato lui ad avallare tale scelta. L'altro candidato a sindaco, Domenico Di Luce, invece non si è ancora espresso verso la sua ex compagna di squadra. Con la presentazione della lista numero uno la campagna elettorale di Castellabate entra nel vivo e già si annuncia vincente e competitiva perché l'equilibrio, almeno per ora, sembra scontato.